Claudio Lucardini Claudio, quest'anno vedo che stai facendo veramente dei progressi incredibili quindi hai raggiunto dei risultati tremendi qual è il tuo segreto? è che gli altri vanno un po' meno, allora arrivo prima io la verità è quella però dai, bella stagione siamo sempre divertiti e arrivati bene al traguardo un contentissimo senti, mi racconti quali sono, perlomeno, gli elementi essenziali della tua preparazione ma guarda, non c'è niente di mirato c'è solo che andiamo parecchio d'inverno soprattutto abbiamo scoperto che allenarci in Liguria in mountain bike è bellissimo si fanno tante belle discese per fare discese bisogna fare salite e se fai le salite ti alleni la morale è quella lì se si vuole fare un po' meno strada andiamo a Terre Rosse, a Roasio che è un paradiso e anche lì stesso discorso, belle discese quindi salite per allenarsi io sono fortunato perché sono un giro tutta settimana fuori Milano Bergamo, Varese, Como quindi la bici in macchina almeno un paio di volte a settimana me la metto nella pausa riesco a allenarmi un po' anche in posti dove c'è un po' di salite a essere a Milano devo dire che è veramente dura dovrebbero far ripartire un quarto d'ora prima i residenti a Milano confermo, confermo andiamo un po' più sul tecnico ma periodizzi o ti alleni così a sensazione? a sensazione, quando c'è bel tempo mi alleno di più quando c'è brutto tempo mi alleno di meno poi alterno un po' al nuoto e alla corsa che è giusto per non fare solo bici perché fare solo bici mi rischio di annoiare e quindi una volta a settimana corro una volta a settimana nuoto e via